Blitz antiprostituzione della polizia d'Agrigento, identificate 5 donne sudamericane. L'asi d'Agrigento è stato costruito con cemento depotenziato, ad affermarlo l'assessore regionale Marco Venturi. Favara, diverse abitazioni degli alloggi popolari di Contrada Piene dei Peri sono state occupate e per alcuni cittadini potrebbe scattare la denuncia per invasione di edifici. Inaugurata la sede dell'Udc di Favara, il consigliere Salemi passa con il partito di Casini, anche il movimento Ripensare Favara sposa l'Udc. Fabari Arelli si aggiudica l'edizione 2012 il pilota canica tinese Alfonso Di Benedetto. Ben trovati all'informazione di Sicilia TV. Un blitz antiprostituzione è stato eseguito ad aggrigento dai poliziotti della squadra mobile. Gli agenti, in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, esasperati dai continui movimenti dei clienti, avrebbero identificato 5 donne di origine sudamericana. Strutture dell'Asi di Agrigento costruite con calcestruzzo depotenziato è quanto affermato dall'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi che ha invitato il Dipartimento Autorità Produttive a porre in essere con la massima urgenza ogni utile attività finalizzata a garantire sia la sicurezza delle persone sia il risarcimento del danno economico patrimoniale che eventualmente è stato arrecato al Consorzio Asi di Agrigento e alla Regione Sicilia. L'assessore Venturi ha inoltre chiesto all'autorità giudiziaria di verificare per le proprie competenze i diversi profili di responsabilità trasmettendo alle procure della Repubblica di Agrigento e di Palermo e alla Corte dei Conti una relazione con elaborati e analisi di laboratorio redatta dalla società 4M Service SPA specializzata nell'esecuzione di prove sperimentali su strutture. E lo abbiamo sentito dai titoli occupazione di alcuni alloggi popolari di contrada piana dei peri a Favara. Alcuni cittadini rischiano adesso di essere denunciati per invasione di edifici. Ancora problemi per le 56 famiglie segnatarie degli alloggi popolari di piazza Donna Alberione a Favara. Ad una settimana dalla consegna delle chiavi, già da ieri, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine a causa dell'occupazione di alcuni appartamenti operata presumibilmente da soggetti non aventi diritto. Sul posto i carabinieri della locale tenenza coordinati dal luogotenente Giuseppe Tarara e gli agenti del locale corpo di polizia municipale agli ordini del comandante Gaetano Raia. Gli organi inquirenti sono al lavoro per stabilire i motivi che hanno spinto gli autori a compiere tali gesti. Persone che rischiano una denuncia per invasione di edifici. Il 24 settembre scorso lo IACP, in accordo con l'amministrazione comunale di Favara, aveva deciso di consegnare le chiavi degli alloggi agli assegnatari per consentire loro di effettuare i traslochi. Appartamenti però non ancora forniti di allacci idrico ed elettrico. Servizi quest'ultimi che potranno essere usufruiti solo dopo la stipula del contratto di locazione. Prima del 24 settembre l'intera area era costantemente sorvegliata da personale di sicurezza assunto dalla ditta che ha effettuato i lavori. Io ero responsabile fino alla consegna delle chiavi perché sul capitolato la legge prevede che non appena si consegnano le chiavi ogni assegnatario diventa custode del proprio appartamento. Tant'è vero che fino a quando c'ero io con il mio guardiano, il mio custode, il mio sistema di allarme, la collaborazione dei metronotti e tutto, qua non è mancato niente, niente completamente. I giovani sono stati i protagonisti della cerimonia di inaugurazione della sede dell'Udc di Fevara. La sede si trova nella centralissima piazza Cavour. All'incontro ha partecipato il sindaco di Portempedocle Lillo Firetto che ha aperto proprio nella città dell'Agnello Pasquale la sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Presenti tra gli altri anche i coordinatori cittadini del partito di Casini, Adriano Barba e Giuseppe Grova, quest'ultimo è anche consigliere comunale. Nel corso della manifestazione è stata ufficializzata l'adesione al progetto dell'Udc da parte del consigliere comunale di Fevara, Francesco Salemi. C'è un'intervista, sentiamo. Penso che sia una giornata importante per la politica favarese anche a ridosso delle elezioni regionali che si apprestano ad iniziare proprio oggi. Abbiamo voluto con questa occasione e in questa occasione dare un segno tangibile di tutti gli sforzi che il gruppo di Fevara ha fatto da me, da Adriano Barba, da altri ragazzi che sono impegnati tutto l'anno. Abbiamo voluto dare questo segno tangibile alla politica favarese. Politica che deve essere fatta di gesti, gesti importanti come quello di dare una sede istituzionale e non di riunirsi nei clanolici bar o appartamenti o per strada. La politica ha bisogno di riniziare dal basso con le sede istituzionali. Abbiamo voluto farla in piazza Cavour proprio per far riprendere il giusto valore alla politica, come è sempre stata fatta, al centro della città. Il movimento politico-culturale Ripensare Fevara aderisce al progetto politico dell'Udici. A dirlo è lo stesso coordinatore del movimento Luca Gargano e del consigliere comunale Filippo Ceresi. La decisione, scrivono, va in sintonia con analoghi movimenti civici presenti in altri comuni agrigentini, tra cui Città Nuova, Porto Empedocle. L'obiettivo, continuano Gargano e Ceresi, è quello di superare definitivamente il centrodestra di stampo berlusconiano per ridare forza ad un raggruppamento moderato che a livello nazionale abbia al centro della sua azione culturale il popolarismo di matrice democratica e cristiana. Come coordinatore cittadino e consigliere comunale del movimento Ripensare Fevara, sosterremo, concludono, il percorso intrapreso dall'Udici che vede nella provincia l'autorevole candidatura di Lillo Firetto a Lars nell'ottica di una ridefinizione del rapporto tra cittadino e politica basato non più sulla leva della clientela né tantomeno su quello del populismo, consapevoli che l'epoca di profonda crisi morale ed economica possa essere affrontata e superata solo con lucidità, equilibrio e senso delle istituzioni. E cambiamo adesso argomento. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Camarata a San Giovanni Gemini hanno arrestato Dia Fallau, senegalese di 33 anni, venditore ambulante residente ad Agrigento. L'uomo è entrato in evidente stato di ebbrezza alcolica in un esercizio commerciale del piccolo centro dell'Agrigentino dopo aver consumato un panino ed una bevanda ha lanciato con violenza una bottiglia contro una parete del locale. Richiamato dal proprietario si è scagliato contro lo stesso per aggredirlo. Alcuni carabinieri in abiti civili liberi dal servizio presenti poco prima nel locale dopo essersi qualificati hanno tentato in vano di portare alla calma l'uomo che per tutta risposta ha tentato di aggredirli. È stato così che il senegalese con precedenti specifici è stato bloccato dopo un concitato intervento, arrestato e trattenuto in caserma in attesa di giudizio direttissimo. L'accusa per lui è di danneggiamento, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della compagnia di Camarata hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio segnalando alla prefettura ed egrigento sei giovani per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nell'ambito dei servizi di controllo alla circolazione stradale sono state sorprese dai militari dell'arma due persone alla guida di altrettante autovetture senza essere munite di patente di guida e pertanto segnalate alla procura della repubblica in stato di libertà. Ci spostiamo a Canicatti dove i carabinieri hanno arrestato Francesco Gallo già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Palermo per reati connessi agli stupefacenti. L'uomo già ha sottoposto la misura cautelare degli arresti domiciliari dopo le preliminari formalità di rito in caserma è stato riaccompagnato nella propria abitazione dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare. Per esistenza continuata pubblico ufficiale sempre a Canicatti i carabinieri hanno arrestato Alfonso Gioacchino San Martino 54enne esercente del luogo che è stato pure accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare. Arrestati in flagranza di reato per un tentato furto aggravato in concorso Giacinto Marchese 42enne e Antonino Sitibondo 40enne entrambi licatesi braccianti agricoli nonché denunciato a piede libero un minore. I tre sono stati sorpresi dai militari dell'arma nell'atto di prelevare derrate alimentari dall'interno di un deposito di generi alimentari per poi caricarli su un autocarro ed un'autovettura con i quali avevano raggiunto il posto. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo. E a Palma di Montechiaro invece i carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Modica hanno arrestato Francesco Catania 57enne bracciante agricolo del luogo. L'uomo deve scontare la pena di un anno e due mesi di reclusione in quanto definitivamente riconosciuto colpevole di concorso in sequestro di persona e lesioni personali. I fatti commessi a Palma di Montechiaro sono risalenti all'anno 2010. E cambiamo adesso argomento. Le organizzazioni sindacali CGL e Cislewil disapprovano le scelte del Comune di Agrigento sull'aumento delle tassazioni locali. Il Sindaco e il Consiglio Comunale scrivono oltre alla regolamentazione delle tariffe sulla pubblicità, sulle affissioni ed occupazioni delle aree pubbliche, adesso approvano alle aliquote massime anche l'Imu e la dizionale IRPEF, buttando via ogni ipotesi di collaborazione con le organizzazioni sindacali. Altro, scrivono la CGL e Cislewil, che è bilancio condiviso e partecipato. Ci sentiamo davvero presi in giro, scrivono Raso, Montalbano e Broccio, e con noi tutta la cittadinanza. Siamo praticamente al dissesto anche se non formalmente dichiarato. Questa terribile situazione dovrebbe portare ad una profonda revisione della spesa su tutta la spesa del Comune che a fronte di servizi assolutamente inefficienti continua ad imporre tassazione locale tra le più alte d'Italia. Si è preferito scegliere la via più facile, aumentare le tasse a quei cittadini che già le pagano. Tutta questa impostazione deve cambiare già nel bilancio 2012, scrivono CGL e Cislewil. Gli stessi si sentono chiamate a costruire un vasto movimento che sia in grado di imporre scelte diverse, eque e sostenibili economicamente, ed in grado di fare uscire Agrigento dalla crisi. Domani sciopero nazionale di 24 ore del trasporto. La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, CGL, Segreteria Provinciale d'Agrigento, comunica l'adesione allo sciopero dei lavoratori delle autolinee extraurbane e dei servizi urbani iscritti all'organizzazione. Questi gli orari dello sciopero dalla mezzanotte alle ore 6, dalle ore 9 alle 13 e 30 e dalle 16 e 30 alla mezzanotte di domani. Cambiamo adesso argomento. La ventunesima edizione del Fabaria Rally, ventiseiesimo Rally dei Templi, si è chiusa con la vittoria del pilota canicattinese Alfonso Di Benedetto. Sfortunato invece il favorese Giuseppe Patti, che arriva al terzo posto. Il pilota canicattinese Alfonso Di Benedetto, navigato dalla fidanzata Valentina Russo, si è giudicato il ventunesimo Fabaria, ventisesimo Rally dei Templi. Per il giovane talento è il quarto successo personale nella competizione agrigentina. Di Benedetto, in gara con la Peugeot 207 Super 1.6 della scuderia SGB Rally, si è giudicato ben sei prove speciali delle nove in programma. Alle sue spalle, distante 11,4 secondi, l'equipaggio Mazza Picarella, ingessi su Peugeot 207 Super 2.0. Terzo posto per il pilota favarese Giuseppe Patti, a poco meno di 15 secondi dalla vettura gemella di Di Benedetto. Patti, nonostante l'esperienza maturata, nel rally, non è ancora riuscito a vincere la gara di casa. Successo sfumato per una foratura che lo ha costretto ad un difficile recupero. Impresa è in parte riuscita nel corso dell'ultimo passaggio della tappa di Aragona, quando Patti ha chiuso la prova 11 secondi prima di Mazza e 18 di Di Benedetto. Il pilota canicattinese nei giorni scorsi aveva annunciato di correre per vincere e così è stato. Già dalla partenza del viare della vittoria di Agrigento, a pochi secondi dallo start, Di Benedetto annunciava battaglia. Determinazione conformata poco dopo dal primato in pista nella spettacolare prova del Concordia Karting. Che dire, noi ci rivediamo spesso, con felicità, specialmente dopo questa vittoria. È la quarta mia vittoria al Fabaria. Io sono cresciuto in questo rally e quindi è veramente bello. Il mio ventiduesimo rally vinto e sono diventato il più vincente di tutti i tempi. Che dire, il rally Favara stupendo, pubblico grandissimo, delle grandi occasioni. Il rally organizzato benissimo, alla grande veramente. Speriamo di continuare nella nostra sciscia di successi e di continuare a rivederci. Questa edizione del rally passerà alla storia dell'automobilismo sportivo agrigentino anche per il ritorno della competizione nella città dei tempi. Amareggiati però i tanti appassionati favaresi che quest'anno non hanno visto partire gli equipaggi dalla classica sede di piazza Don Giustino. L'auspicio per gli organizzatori della Pro Racing di Favara è quello di riportare il rally nella sua sede naturale ai livelli del passato. Ricordiamo infatti che dal 2010 la competizione ha perso la validità per il trofeo rally asfalto. Ciò che la corsa ha mantenuto invece è la presenza massiccia di pubblico al corso per applaudire il passaggio delle auto. Tornando alle classifiche, il gruppo N4 è stato vinto dall'equipaggio Tripolino Montana Lambo a bordo della Mitsubishi Evo X. Per la Super 1.6 invece il più veloce è stato Gandolfo con la Renault Clio. Vincitori di gruppo anche i piloti favaresi Ruggero e Lamanna, rispettivamente in A0 e A5. Dobbiamo registrare che quest'anno è un grande successo per quanto riguarda il Favariarelli sia in termini di pubblico soprattutto di partecipazione. 83 piloti si sono scritti provenienti da tutta la Sicilia, abbiamo avuto grandi nomi dell'automobilismo, di Benedetto ed altri ancora. Quindi non possiamo che essere assolutamente soddisfatti per la riuscita e sicuramente per un proseguo del Favariarelli. Vittoria della Pro Favara contro il Cianciana per due reti a uno. I ragazzi di mister Filippazzo si aggiudicano anche questa partita disputata fuori casa. domenica i gialloblu spiveranno in casa la Ragona. L'inizio della partita è fissato per le ore 15.30. Dall'inizio del campionato di promozione la Pro Favara ha ottenuto tre vittorie ed un pareggio, riuscendo ad avere insieme al Canicattì il primato in classifica. A seguire con nove punti c'è il Serra di Falco, a chiudere con due punti la città di Carini ed il Mussomeli. E non poteva iniziare in maniera migliore l'avventura della fortitudo Moncada Grigento in divisione nazionale A. I ragazzi del presidente Salvatore Moncada hanno battuto la viola Reggio Calabria con il punteggio di 67 a 82 al pala Botteghelle di Reggio. A pochi minuti dalla fine della partita coach Francociani si dice soddisfatto per una squadra che ha pienamente risposto ai suoi stimoli. Grande esordio anche per Riccardo Castelli, l'ultimo arrivo in casa a fortitudo, giunto in aiuto al roster bianco-azzurro dopo l'infortunio dell'argentino Albano Chiarastella. E adesso parliamo di mostre. Ne è stata inaugurata una a Favara che racconta i tanti artisti che negli anni hanno fatto la storia della musica locale. Favara, storia della musica, è il tributo dell'Accademia Palladium ai tanti artisti locali che negli anni hanno animato l'ampio palcoscenico della musica italiana. Le iniziative patrocinate dal Comune di Favara hanno preso il via sabato scorso con l'inaugurazione della mostra fotografica allestita nella sala del collare del Castello Chiaramonte. Il percorso, ideato dagli organizzatori, accompagna i visitatori in un viaggio senza tempo con gli scatti in bianco e nero delle band locali, chiaramente ispirate dai mostri sacri del periodo come i Beatles e Rolling Stones. Tra le peculiarità della mostra, anche la riproduzione dell'atto originale di deposito alla CIAI del celebre brano Vittina Crozza, composta per il film Il Cammino della Speranza, dalla musicista grigentino Franco Licausi. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 9 ottobre. Sabato prossimo, 6 ottobre, dalle ore 21 in Piazza Cavour, la notte di musica italiana. Domenica 7, invece, spazio al rock e al blues, con l'esibizione sul palco dei gruppi. Promuovere i valori della solidarietà. Dopo Favara, la festa del volontariato si sposta ad Agrigento. Proseguono in provincia di Agrigento le manifestazioni organizzate dal CESVO per la promozione dei valori della solidarietà. Sabato sera, la festa del volontariato ha fatto tappa nella splendida Piazza Cavour della città dei Templi. Quartodici le associazioni di volontariato presenti, che negli stand allestiti, hanno reso pubbliche le attività svolte sul territorio, con la distribuzione di gadget e volantini informativi. Tema della serata, volo in musica, una maratona musicale che ha visto salire sul palco dodici band di giovani artisti locali. Volontariato nessun escluso, proprio perché ci sono tantissime associazioni che lavorano sul territorio e aiutano, diciamo, tanti bisogni senza che venga data a volte visibilità al loro operato. Suppliscono a tante carenze e oggi vogliamo invece portarle in piazza, far sì che anche la cittadinanza conosca l'attività di queste associazioni e tutte quante in piazza vogliamo contribuire a far diffondere la cultura del volontariato. L'abbiamo fatto con un gruppo musicale quest'anno, anzi con otto gruppi musicali di giovani gruppi locali che si esibiscono e che ci daranno la possibilità di incontrare così tanti giovani e cercare di portarli, di avvicinarli al volontariato. Iniziano oggi al convento Sant'Antonio dei frati minori di Fevara le celebrazioni per ricordare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, festeggiato il 4 ottobre. Il primo appuntamento è per le ore 19 con la celebrazione caristica presieduta da Don Giuseppe Cumbo, animatore vocazionale della diocesi di Agrigento con la presenza dei seminaristi. Alla 21 sempre di oggi concerto di musica irlandese nel chiostro del convento eseguita dai giovani amici di San Francesco. Domani invece a celebrare messa sarà Don Giuseppe Morreale, direttore spirituale del seminario di Agrigento. Il 4 ottobre sarà presente a Fevara invece il Vescovo Montenegro. E parte oggi il quarto ciclo di disinfestazione del territorio comunale di Fevara. Dalle ore 23 di oggi fino alle ore 5 di domani mattina le zone interessate da tale attività sono le vie regione siciliana Capitano Callea, Pietro Nenni e Carlo Alberto della Chiesa. Per i residenti delle vie interessate dalla disinfestazione è consigliabile tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni e non lasciare nei balconi o negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria o animali. Dopo Farm Cultural Park a Proda Venezia l'architetto favarese Lillo Giglia. Lo stesso è stato selezionato tra 50 giovani architetti per partecipare alla 13esima mostra internazionale di architettura alla Biennale di Venezia. L'evento si svolgerà il 6 ottobre prossimo dalle ore 10 a 30 alle ore 16 presso il Padiglione Italia. Il lavoro presentato riguarda il Belmonte Hotel di Favara. Perfetta sintesi che incarna il tema della biennale Come On Ground. Nella progettazione del Belmonte Hotel di Favara l'architetto Lillo Giglia svolge una ricerca tesa all'identificazione tra il viaggiatore turista e lo spazio che lo accoglie. Un intreccio complesso tra realtà, fruizione e progetto. Ho dovuto confrontarmi con la memoria dei luoghi, dice Giglia. Era un edificio dimenticato, una stalla nel pieno centro storico di Favara, quasi un grande vuoto urbano tra vecchi edifici ottocenteschi in una strada strettissima. Si tratta, continua il giovane architetto, di un adeguamento ad una nuova immagine che, restando discreta, vuole dichiarare il carattere attivo e vivo dell'edificio. Ho cercato di rendere il progetto un esempio di perfetta integrazione di architettura contemporanea all'interno della città storica. E adesso linea alla regia per il meteo a seguire la sigla. Grazie ancora per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima edizione del Telegiornale. Arrivederci. Per martedì 2 ottobre, residui e condizioni di variabilità al nord, nelle zone interne del centro-sud e sulla Sicilia, con rovesci sparsi. Ampi spazi soleggiati sulla maggior parte dei settori di costa e pianura, con clima mite. Ancora piuttosto caldo al sud. Al nord, molte nubi sulla medio-alta Valpadana, specie al nord-ovest, dove confermiamo il maggior rischio di pioggia. Ampi spazi di sereno sull'Emilia-Romagna, Basso-Veneto e su parte della Liguria, con temperature gradevoli. Un po' più fresco al nord-ovest. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte del territorio, salvo residui e addensamenti dalle basse marche al Molise, dove non si escludono piovaschi o brevi rovesci. Sole pieno anche in Sardegna, con venti più miti di maestrale. Clima gradevole, con temperature ancora superiori alla media, ma caldo più moderato. Al sud, mattinata dal tempo variabile, con nuvolosità irregolare e qualche rovescio nelle zone interne. Sulla Sicilia, cieli coperti per tutta la giornata, con piogge sparse e rovesci a ovest. Temperature in diminuzione, ma con picchi ancora localmente superiori ai 30 gradi.